It's tricky, rockin' 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 The style of time is tricky, 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 tricky Ma è benvenuto! Madre Perla, non è quella leccata, no no no, è nuova, è nuova Madre Perla è il nuovo disco di Guè, le avresti azzeccate tu quelle di Walter Nudo, ragazzina di 15 anni? Stupenda, rubrica stupenda Vero, mi piace? Non sapevo che facessi questo È nuova, è nuova, è nuova Con la foto e la scritta È una primizia, è molto molto bella Senti, com'è andato? Guarda, te lo tengo qua ancora un po', è uscito il disco, mi sembri molto soddisfatto È andato bene? Lo so, perché lo vedo, l'ho ascoltato Tu sei contento? Contentissimo, più che altro perché è un disco fatto proprio con la passione per il rap Un disco mega rap Sì E quindi, insomma, risultato pop per un disco rap Guarda, bravo, no è vero, perché poi è andato prima in classifica Se tu guardi Spotify, tutte le prime canzoni sono canzoni della tracklist del disco Mi hai fatto tornare la gioia di ascoltare il rap di quando ero ragazzino Dei fine anni 90, primi anni 2000, insomma, bassi maestro Un bel complimento che mi hai fatto perché è un po' quello Io più scherzavo, twittavo Make Italian Rap Great Again Ah, twitti? Eh, senza rite Ogni tanto vedo Senza rite Ogni tanto vedo, sì No, però, delle poche cose intendevo dire che mi fa piacere che me lo dici Perché la missione era questa, no? Ma non per screditare il rap trendy o quello dei giovanissimi Però, perché, so, far vedere che è anche una cosa seria Che c'è una cultura dietro Che, no? Che c'è, ci sono dei riferimenti Sperimenti, ci sono Basta se è troppo serio No, 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 no No, ma secondo me è perché sei entrato Nella parte No, nella parte perché Passiamo a Valternudo, dai No Vogliamo fare una manche con Gueni Valternudo No, dicevo, è entrato nella parte perché so che hai fatto una masterclass in triennale Pazzesco Lì hai fatto il serio, hai fatto il pochino È un po', sì Con gli studenti della Cattolica Quella, che chic E, come è andata? Siamo uno scherzo Ma abbiamo fatto questa cosa ironica perché Sì, attorno a un album ruotano anche Dei mondi, no? Che sono, cioè il famoso marketing Quello che tu fai per far parlare di un album Sì Che oggigiorno magari sono solo Diciamo, senza fare stupidaggini su Instagram Ci siamo? Sì Abbiamo cercato di fare una cosa un po' più funny, no? Un po' più carina Abbiamo fatto questo Monopoli Abbiamo fatto Eccolo qua Fantastico Il Monopoli nella versione dell'Axt disco Abbiamo fatto Hotel Madre Perla Abbiamo fatto questo trailer Mega culto con Jerry Calab Poi abbiamo fatto questa idea della Masterclass Perché la Masterclass c'erano gli studenti della Cattolica E tutti gli addetti ai lavori Che, massimo rispetto Sai che in Italia non tutti brillano per background Alcuni sì, alcuni no Quindi, ironicamente, abbiamo fatto questa lezione In cui io facevo il prof Con bassi sui giradischi Che cercavamo di spiegare Cos'è per noi il rap fatto bene Com'è per noi un disco rap bello Sai no? Con la lavagnetta Certo, sì, sì È stato divertente Guarda, tra le altre cose Questo gadget che accompagna la versione deluxe del disco A parte che me lo tengo Prima ho iniziato un po' a spulciarlo È, immaginate, un Monopoli Per le strade succedono cose Un po' alla gue, no? Per le strade del Monopoli Cioè l'ambientazione è un po' tutta quella Ci sono le carte, quelle degli imprevisti Diciamo un po' le punizioni Ne ho vista una Adesso, eh, lasci la lambo in doppia fila Ti invitano come giudice a un talent show Cioè tutte le cose brutte che possono succedere A gue perché gnotte hanno fottuto il borsello Eccetera, eccetera Ne ho trovata una Cavolo, adesso non la trovo Che ti invitano ospite in un programma Dove il presentatore ti intervista e non capisce un cazzo Direi Sono io? No No È una penalty quella È una penalty, eh No, quella è tipo quando vado in tv Che c'è il tipo che ti chiama gay Uè, gay, come va? Gay, gay, gay Sì, sì Capisci che Che è un cavallo a tre cosce Cos'è un cavallo? Un cavallo a tre cosce Ah, un cavallo a tre cosce Una metafora Sì, sì, sì No, no, no C'ero arrivato Non è un cavallo vincente Avevo colto la sottile metafora No, a proposito di linguaggio Di linguaggio strano Tu lo parli il Rio Contra Sì, il Rio Contra è Sì, un po' In adolescenza sì Non ti so dire perché Ma da dove nasce? Allora Partiamo da cos'è Facciamo un attimo master Allora, sì Allora, in voga di brutto negli anni 90 Sì Se ci pensi E c'era anche nei film famosi Prima vi ha citato Jerry Calama I famosi film un po' trash Quelli all'italiana Certo Se tu ti ricordi Adesso non vorrei sbagliare Maurino Di Francesco Quelli parlavano così Perché il milanese Parlava così Quindi era una roba un po' street Un po' uno slang dell'epoca Ehm La cosa per la prova di scemo È la gafi Esatto Cos'è la gafi? Cos'è la gafi? È prendere una parola Dividerla a metà E invertire l'ordine delle sillabe E quindi la gafi è la? Perfetto Perfetto Guarda come vi ho preso E si usava per Chiaramente per cose Appunto come questa Che non potevi, no? Per mascherare un po' Quello che non potevi dire In ambienti così Ragazzini Sai, dicevi la zia Poli Arriva la zia Poli O la zia Poli Alla polizia? Sì, quindi Ah, certo Sì, sì, sì E però Insomma, si usava così Poi non so se Forse ci sono alcune Tipo la famosa gafi Che Poi ha sopravvissuta Alcuni Termini re o contra Forse li usano Anche i ragazzini adesso Però non frequentando più Sì, ogni fatto io mi sento Se non mi borghezito Da quando No, certo Da quando fai le master No, certo No, però tra l'altro Sai che Non so se sapevi Ma sicuro lo sai Che Non so chiedermi perché Ma a Parigi È famoso Si chiama Argo Non vorrei dire una cazzata Argover Cioè Cioè E c'era questo Anche loro usano sta cosa Questo metodo di invertire Lo usavano se non altro Negli stessi anni Le parole Tornando ai ragazzini Che adesso usano di nuovo Questo slang L'altra grande tematica Dei ragazzini Sono i soldi No? Sì Dei rapper dici Sì Sì, sì, sì Parlano Parlano di soldi È un po' Un argomento Un argomento importante Proliferano però Sempre di più Io vedo sui social network Questi Queste specie di tutorial Per Fai soldi In una settimana In una settimana diventerai ricco Come Come guè Non lo so Cosa ne pensi di questi Ma Non lo so Cioè Se tu avessi una formula Segreta Per Ti rivolto la domanda Per diventare miliardario Subito Tu me la diresti adesso Cioè Così Io no Non lo so No, in televisione forse no No, ma neanche dietro Non è che mi No, a te sì Senti, ma volevo proprio Ho trovato un modo Per non fare un cazzo Perché La cosa per me è stura Che è il segno dei tempi Ma non è solo questo Questo che dici tu È una cosa importante È che il fondo È non fare Non lavorare Cioè La cosa L'obiettivo finale Sì È non lavorare Capisci? Quindi è E quella è la cosa strana Capito? Cioè Tu devi fare Fai questo Senza lavorare Capisci? Un po' come Ai nostri No, ai miei tempi Tu sei più giovane Cioè la gente vuole diventare Magari velina, calciatore Adesso tutti O guru O influencer O trader O la roba delle criptovalute A me vedi La gente dice No, ma io Ho smesso Ho smesso Cioè trovare un po' Una sciarcata Una scorciatoia No, no, io che lavoro sono un coglione Non riesco a capire Sì Sì, sì Il messaggio Il messaggio che parte Da quella roba lì È quello Cioè Tu Poi Sai che cosa Che Senza Mancare di rispetto a nessuno Anzi Io posso pure Mancare di rispetto Tanto ormai È peggio È nel personaggio È nel personaggio È nel personaggio Cioè io posso Accettare Cioè un consiglio Di economico Finanziario Da un influencer Barra una che Fa Cioè sta a pecorso Sono di fans O da uno che non ha La terza media Che non sa fare Perché quello Il personaggio Sì, sì Diciamo l'area In cui si muovono Sono a Dubai a fare la trader Ah Quindi io Non ti me l'ho convinto Tu mi insegni A fare bitcoin Che non so Fino a ieri Eri capito È tutto un po' così È tutto un po' Un po' confuso E sugli insegnamenti di vita Quelli sono i miei preferiti Sì A me piace Un po' al nostro amico Un po' anche Walter Quello fa video però Con la musica No, no, no Lui fa No Fa solo foto Lui mette la sua foto Quando gli viene in mente Una frase Che capisce Che è giusta La dice Ma magari Gliele suggeriscono Che avranno autori No, io voglio credere Che siano sui Che siano sui Sì A me piace A me piace Quando tipo Prendono No questi paesi O prendono paesaggi Tipo di salto Delle nature Sovrannaturali Siano cascate A rallenti E mettono la voce Narrante Tipo film Una musica Una musica Di quelle voce E poi c'è la sovrimpressione Quello mi piace tantissimo Mi hanno lasciato In mezzo ai lupi Sono diventato Il capobranco Quelle cose lì Così Però non sta Quelli Quelli anche vendono Vendono motivazione No Come diventare ricco Loro non ti fanno Diventare ricco Sì Beh un po' Sì no Ti vendono Ti vendono Un mindset Credo Uno stato mentale Ecco la cosa importante Che però poi tutti Ti vendono qualcosa Io ti dico Sì ma in America C'è da una vita Questa cosa Però mi sembra Anche lì un po' Stereotipato Se tu guardi A me capita A volte di vedere Senti Tipo i grandi attori Quelli super pagati O le superstar Della musica E dicono Tutti Tutti Mi sveglio le 5 5 Vedo le 5 Faccio un'ora di meditazione Un'ora di palestra Sì Poi le colazioni con un tè verde Una cosa così Poi inizio meeting Business Poi vado in palestra Prima di allenamento Poi il terzo Poi vado a prendere i miei figli a scuola Poi così Alle 10 a letto Cioè io leggo spesso questa cosa Che mi sembra assolutamente Improbabile Altamentissimamente Cioè per me Per me lo è Sarà per questo Sono diventato veramente Veramente ricco Ma solo Normalmente ricco Normalmente ricco Perché alle 5 si va a dormire Eh sì No ci svegli Dobbiamo iniziare a svegliarci Eh sì No ci svegli E a fare meditazione